Ciao Licia, sono Raffaella Palladio, mi occupo da poco tempo della colonia felina di Cinecittà. Ci sono più di 100 gatti affamati, molti malati, molti piccoli, molti gatti da sterilizzare. È una situazione lasciata a se stessa da anni, a cui adesso stiamo cercando di porre rimedio. Tutto questo ben di Dio è una manna dal cielo, perché i gatti sono tanti, perché ci vuole tantissimo cibo, soprattutto cibo fresco come questo, nutriente, che possa servire anche ai piccoli. Quindi ringrazio con tutto il cuore te e animali e animali per questa donazione e per tutto l'aiuto che avete sempre dato a noi volontarie di Roma, perché non ci troviamo in una situazione molto rosea. Quindi un bacio e un abbraccio da parte mia, delle mie colleghe volontarie e da tutti i gatti di Cinecittà Studios. Se ci vuoi venire a trovare, ti aspettiamo!